Ciao Valentina, sono Matt V e come tutti gli altri ti do carta bianca ovviamente. In questi giorni ho avuto in particolare uno strumento in mano, che è questo, un Diabson. Un Diabson perché? Perché ho accordato la voce, ho accordato gli strumenti, e ho accordato anche carta e penna, perché prossimamente magari uscirà qualcosa di nuovo, che non vedo l'ora di farti ascoltare, magari ti manderò tutto in anteprima. Nel frattempo ti ringrazio per questa opportunità e ti mando un grande abbraccio e come sempre, a Stadio, io resto a casa. Ciao!